E già ragazzi l'avete detto dal titolo, mi prendo una pausa. Adesso mi immagino già il gator. Ah ma finti che ho chiuso il canale, ah come sono felice. Ti piacerebbe? No questa frase era già da te a Black G che la taglio. E ho bisogno di concentrarmi al massimo con la scuola, perché altrimenti non riuscirò per niente ad essere promosso quest'anno. Ho già preso un'insufficienza e potrebbe anche darsi che ne capitano altre. Quindi preferisco non fare video, non dovrei fare video fino a Natale. Il 17 di dicembre sarò a casa, però in teoria potrebbero riniziare anche prima. Il 31 di ottobre comunque ci sarà lo speciale di Halloween. Qualche giorno prima farò un'eccezione, farò un video informativo per parlarvi di due cose. E niente ragazzi, io questo è quello che vi volevo dire. Spero che voi possiate appoggiare questa mia scelta. E niente ragazzi, noi ci vediamo appena possibile con un video e vi dico ciao.